Abbiamo fatto un piccolo salto nel passato, ci siamo rituffati al 16 febbraio scorso dalla Thriller Night 3 che si è svolta al Palamolza di Modena con questo match di David Kirko, vittorioso, tra breve andremo a svelare anche il quarto nome, la quarta testa di serie di cui vi parlavo, prima però vorrei rimanere su David Kirko perché siamo andati a rivivere queste fasi, questo match, perché David Kirko quest'anno pare non ci sarà a Ritalian Extreme 6, perché Emiliano? Innanzitutto come avete potuto vedere i miglioramenti di David sono stati notevoli, su David ci sono parecchi progetti, la cosa interessante è che allacciandosi al discorso che stavamo facendo ci sono delle teste di serie che andremo a svelare al quarto, ma ci sono anche delle qualificazioni per accedere alla stessa fase italiana che è l'appuntamento di Modena e stiamo vagliando diversi ragazzi, anche emergenti, anche professionisti affermati che durante determinate selezioni che facciamo in giro per l'Italia possono pian pianino prendere il posto degli attuali professionisti o anche per mettersi in mostra ed eventualmente entrare nelle qualificazioni in future. Il progetto su David è sicuramente un ragazzo che scherzando e ridendo ha accumulato circa 18 incontri professionistici, 18 incontri di cui gli ultimi 6 o 7 senza protezioni, è un ragazzo che mediamente fa parte della categoria dei welter, lui è fino a 67 kg, si sta pian pianino anche con un programma di potenziamento, sta cercando di arrobustirsi per arrivare ai 70 kg e magari, non dico tanto quest'anno, ma per il prossimo anno potrebbe essere uno dei ragazzi che entra a far parte praticamente dei probabili. E poi ovviamente ci saranno delle selezioni anche il prossimo anno, quindi è chiaro che ci sono grandi aspettative e ancora più grandi margini di miglioramento per quanto riguarda il percorso di David Kirko che giustamente qua ha parlato Emiliano nelle vesti di istruttore dello stesso David, non deve bruciare le tappe del percorso anche perché si parla di livelli piuttosto impegnativi, quindi è meglio aspettare qualche mese in più, un anno in più per tentare un passo così importante quando, come altrettanto importante diceva Emiliano, quando si avvicinerà anche al peso previsto per questo tipo di selezioni. Torniamo dunque alla quarta testa di serie già individuata, un altro atleta che ha fatto molto parlare di sé, soprattutto in quest'ultimo anno, un atleta particolarmente potente. Chi è questa quarta testa di serie Emiliano? È un ragazzo marocchino anche lui, molte volte entriamo in contraddizione quando si dice delle qualificazioni italiane e poi vediamo che non ci sono proprio tutti italiani, però diciamo che le abbiamo aperte a italiani e a residenti in Italia perché non dimentichiamo che in Italia risiedono e abitano anche grossi professionisti che non sono proprio italiani. Comunque la quarta testa di serie è il marocchino Jaouet del Biari, è un ragazzo che è con noi da circa un due anni ma soprattutto in quest'anno ha fatto veramente dei grossissimi risultati, a parte la strapittosa vittoria su Vallo che per gli esperti del settore è veramente un grossissimo thailandese che proprio nel torneo di Bari a luglio dell'anno scorso è riuscito a batterlo nelle semifinali e giudicandosi poi in finale il torneo su Alfredo Alimonta, altro fortissimo cubano che anche lui risiede in Italia. È un ragazzo che veramente sta crescendo molto, è un ragazzo anche lui con 70-80 match, un fortissimo pugile, è un ragazzo che sta migliorando molto con le tecniche di gamma perché la sua formazione è prettamente pugilistica e secondo me è stato giusto inserirlo appunto nella qualificazione. Mi ha fatto piacere che comunque tu hai accennato un grosso nome Gigi inizialmente. Ancora non andiamo a svelare perché sì effettivamente c'è una contemporaneità di argomenti, c'è un altro grosso nome legato all'Italian Extreme 6, in questo caso parliamo di una testa di serie per quanto concerne il mondo della Thai Box che però parteciperà, sta partecipando alle selezioni o quantomeno è in fase di selezione dai vertici della Combat League e dalla struttura organizzativa dell'Italian Extreme 6, lo svegliamo subito o lo svegliamo dopo? Naturalmente stiamo valiando di fare entrare nel torneo il fortissimo thailandese Kao Kon Lek per gli esperti del settore, per i ragazzi che seguono i nostri sport, è addirittura una persona che ha combattuto contro Ramon Lekker, quindi è un combattente che risiede in Italia già da diversi anni, diciamo che più che altro lui è uno specialista proprio di boxe alanese, quindi di Muay Thai. Ecco, addentriamoci su questa precisazione che hai fatto, è uno tra i numeri uno della Thai Box, Thai Boxer anche di questo livello che possono incontrare non pochi problemi nell'approccio al K1, perché? Questo è un argomento che abbiamo già affrontato, il regolamento K1 diciamo che è un regolamento che toglie un po' le armi del Thai Boxer puro, ripetiamo che non esistono, non sono ammesse le gomitate e soprattutto il clinch è molto ridotto, quindi parlando di clinch che è il corpo a corpo e togliendo le gomitate, per quanto riguarda un thailandese in particolare, ma anche proprio un esperto di Muay Thai togli parecchio del proprio potenziale offensivo, quindi vai a bloccare parecchio. Disarmati e non poco, disarmati sicuramente dei loro punti di forza. Quindi ecco perché buttati o comunque partecipando a un torneo di questo tipo non sono così favoriti come lo sarebbero in un match di Muay Thai, ecco che lì invece sarebbero veramente problemi seri per chi si ritrova di fronte. Perfetto, andiamo a rivivere altre emozioni in questo momento legate a un altro match, in questo caso un incontro che ha visto protagonista un altro atleta del gruppo sportivo Shoot Team di Modena, sto parlando di Rafik Magbu che è salito sul ring qualche tempo fa, non svegliamo nulla sull'esito del match ovviamente e nemmeno sul suo avversario, vediamo con chi ha combattuto.